Ciao, sono Austin Duque, ho 20 anni, gioco in una squadra che si chiama Totasport. I miei passioni da sportivo sono calcio e basket. Adesso vi presento tutti i miei compagni che ho conosciuto e che giochi insieme. Facciamo tante esperienze insieme. Guarda che passi che fai, tu questo te lo sogni. Prezento. Anche se sta su una segna a hotel. Noi abbiamo un sogno, conoscere tutti i giocatori, tutti gli allenatori che vogliamo conoscerli. E vogliamo invitarvi a giocare con noi. E per questo io mi sfido. Aggettate la mia sfida del cuore. Allora, noi siamo Mettebise e accettiamo la sfida.